San Mattia è la location ideale per chi desidera organizzare il proprio ricevimento noziale in una struttura intima, raccolta e immersa nella natura, dove l'elegante semplicità degli spazi e la genuinità della gastronomia saranno gli alimenti che trasformeranno il vostro giorno speciale in un evento indimenticabile. L'agriturismo dispone di ambienti dallo stile rustico, ma al contempo elegante e ricercato, come la spaziosa sala ricevimenti, modulabile secondo le esigenze per accogliere i vostri ospiti in un'atmosfera sempre intima e calda. Nella zona esterna troverete un'ampia terrazza panoramica e lo splendido giardino della struttura, entrambi spazi ideali per allestire romantici banchetti all'aperto nei mesi primaverili ed estivi, immersi nel verde circostante e circondati da uno scenario da favola. Il personale della struttura accoglierà il vostro evento con passione e familiarità, aiutandovi nella scelta e realizzazione di allestimenti personalizzati e venendo incontro a ogni vostra richiesta e desiderio. La cucina di San Mattia Agricola Ederle propone un'ampia scelta di piatti, dove il gusto e l'essenza della gastronomia autentica della zona di Verona viene esaltata con l'uso di ingredienti di stagione, freschi e genuini, per garantirvi un banchetto da favola. Per tutti coloro che desiderano prolungare la permanenza di questa fantastica location, San Mattia Agricola Ederle dispone di graziose camere da letto provviste di ogni comfort per regalarvi un'esperienza di puro relax.